Le ACLI di Arezzo si ritroveranno di fronte all'ingresso dell'archivio di Stato per celebrare il 1 di maggio la festa dei lavoratori. Un momento di ritrovo dunque simbolico perché proprio qui nel 2018 perse loro a vita due dipendenti, Piero Bruni e Filippo Bagni. L'iniziativa promossa in collaborazione con MCL è in programma alle 9 e troverà il cuore nella deposizione di una corona di rose bianche che vogliono ricordare le morti sul lavoro sul territorio provinciale e che allo stesso tempo vogliono lanciare un monito a tenere alta l'attenzione sull'importanza di sviluppare una cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità. Durante la giornata poi le celebrazioni del 1 di maggio si sposteranno a Ruscello dove in collaborazione con la Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI tornerà la camminata del 1 maggio dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria. Un altro appuntamento sarà a Capolona con l'iniziativa 1 maggio in famiglia volta a promuovere un'esperienza per ogni età in mezzo alla natura. Le ACLI spiega il vicepresidente Sergio Grazzini. Sono un'associazione di lavoratori e di conseguenza sono da sempre sensibili alle tematiche della festa del 1 di maggio che quest'anno potrà finalmente tornare ad essere celebrata anche dai circoli. Il consiglio provinciale dell'associazione ha deciso di rinnovare il simbolico momento di ritrovo all'archivio di Stato che vuole configurare un omaggio a coloro che hanno perso la vita sul lavoro e anche un'occasione di riflessione.